bella a tutti i forniters benvenuti su leontube eccolo guardiamo sta arrivando Darth Vader con la sua navicella vediamo dove atterra allora vediamo un po dove atterra perché i punti dove può atterrare sono qui o anche quassù almeno quelli che conosco io per ora quindi atterriamo andiamo qui vediamo se è arrivato già qui perché cosa andiamo a cercare noi li andiamo a cercare dove atterra lui nei suoi accampamenti troveremo le armi di star wars quindi atterriamo quel punto in questo momento non c'è altrimenti avremmo visto la navicella qui nel mezzo e Darth Vader con due scagnossi a girarsi intorno e una volta atterrati qui avremmo avuto la battaglia quindi è atterrato da un'altra parte che non sono riuscito a vedere ma intanto eccolo qua troviamo queste belle casse dove troviamo le armi di star wars ecco qua questi miei forzieri qui abbiamo addirittura ne ho due che non mi servono vediamo se ce n'è ancora un altro no ce ne sono tre ok quindi questa è la posizione dove trovare le armi di star wars e con quale potete fare la missione danneggi avversari usando un'arma di star wars se il video vi è piaciuto vi è stato utile mi raccomando un bel mi piace condividetelo con i vostri amici nei vostri social non dimenticate di lasciare un commento è importantissimo se vi va e non ancora non l'avete fatto vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale e non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere gli aggiornamenti ciao a tutti